Questo webinar è il primo di una serie di webinar per il 2024, una campagna che abbiamo intitolato Achieve Better Milk Together. Cercheremo di lavorare insieme ai nostri stakeholder per ottenere una migliore qualità di vita, un business sostenibile e allevamenti e bestiame più sani. Noi vogliamo offrire soluzioni e risolvere i vostri problemi e le vostre sfide. Vi aiutiamo con diagnosi, con la gestione dei dati e cerchiamo di offrirvi appunto tutta una serie di soluzioni per aiutarvi nel vostro lavoro quotidiano. Stasera parleremo di una serie di approcci pratici per gestire meglio il dolore dei bovini. Il nostro speaker di stasera è il professor Guatteo che è un veterinario che è laureato presso la facoltà di medicina veterinaria di Nantes. Attualmente è professore di gestione sanitaria nella scuola di veterinaria di Nantes Oniris in Francia ed è un membro di varie associazioni del settore. Ma adesso cedo a lui la parola, grazie a lei la parola. Grazie Stefan. Potete vedere il mio schermo? Sì, lo vediamo bene. Quindi buonasera a tutti. Sono molto lieto di essere qui per questo webinar e vorrei innanzitutto ringraziare Stefano per l'invito stasera. Stasera parleremo appunto di approcci pratici alla gestione del dolore nei bovini. Prima di iniziare la presentazione vorrei spiegarvi quale sarà lo schema generale della presentazione, quindi alcune definizioni molto chiare e di base sui meccanismi del dolore o dei dolori. Informazioni sulla rilevazione del dolore nei bovini in secondo luogo, quindi come si può rilevare il dolore quotidianamente nei bovini. E poi la terza parte è la gestione del dolore nei bovini e ci concentreremo soprattutto sull'approccio 3S. Quindi prima di iniziare con la prima parte della presentazione vi proponiamo un breve sondaggio in modo da essere un pochino più interattivi. Secondo te i bovini sono una specie che non sente il dolore, non esprime molto bene il dolore o esprime il dolore a modo suo? Secondo te i bovini sono una specie che non sente il dolore? Ecco qua le prime risposte Bene, chiudiamo la prima domanda. La maggior parte di voi ha detto che i bovini esprimono il dolore a modo loro. Grazie Stefan e grazie a tutti i partecipanti. Se pensiamo ai risultati, magari vent'anni fa potrebbero essere stati diversi, no? Negli ultimi vent'anni sicuramente abbiamo raggiunto grossi risultati per dimostrare che i bovini effettivamente esprimono dolore. Grazie. Per tempo non è stata chiara la definizione dell'espressione del dolore nei bovini e oggi utilizziamo una definizione simile a quella che utilizziamo per gli esseri umani. Quindi il dolore è un'esperienza sensoriale negativa che presenta la consapevolezza da parte dell'animale di un danno o di una minaccia all'integrità dei suoi tessuti. Secondo me è importante dire questo. Si può dire che l'essere umano e l'animale in questo caso sono intercambiabili in questa frase. Quindi ci potrebbe essere o meno un danno vero, ma può essere solo una minaccia che è percepita dall'animale. Perché il dolore modifica la fisiologia e il comportamento dell'animale per ridurre o evitare il danno, ridurre la probabilità che si ripeta e promuovere il recupero. Quindi da una prospettiva molto basilare il dolore è positivo per l'animale perché lo aiuta a ridurre determinati danni. Poi il dolore però può essere anche non funzionale, non utile e questo si verifica quando l'intensità o la durata del dolore non è correlata al danno subito. Soprattutto se non esiste questo danno o quando le risposte fisiologiche e comportamentali non riescono ad alleviare questo dolore. Penso sia molto importante notare proprio che ci può essere un dolore o una minaccia vera e quindi il dolore può essere utile in alcuni casi per l'animale, ma in altri casi può essere non funzionale. Un altro aspetto importante quando si parla di dolore animale è cercare di definire bene di che cosa stiamo parlando. In questo caso ci sono due termini che utilizzerò poi nel resto della presentazione da una parte iperalgesia e allodinia. Iperalgesia è un aumento del dolore quando lo stesso stimolo nocivo viene ripetuto. Per esempio quando si ha una cicatrice dovuta a un intervento chirurgico e questa zona è dolorosa più del normale. Ma ci può essere anche l'allodinia che è un po' diversa rispetto all'iperalgesia perché significa che l'animale ha un dolore anche quando una stimolazione normalmente non è dolorosa. Ad esempio il dolore provocato dall'accarezzamento dopo una scottatura solare. A volte abbiamo la sensazione che basta toccare la mucca o la sua schiena, la coda eccetera e sembra che la mucca senta dolore a qualsiasi movimento che si fa. E appunto abbiamo la sensazione che sia dolorante l'animale. Quindi l'allodinia succede spesso quando si passa dal dolore acuto al dolore cronico. È fondamentale nel caso dell'iperalgesia abbiamo alcuni casi, alcuni modi diciamo per trattare questo tipo di dolore. Nel caso dell'allodinia è molto più complicato. Ma parliamo adesso del meccanismo del dolore. Ci può essere un tessuto danneggiato, quindi c'è un mix infiammatorio, il che rende sensibili i nocicettori. Quindi c'è un'informazione che passa nella zona periferica e quindi c'è una sensibilizzazione della corteccia che torna all'animale e quindi ci può essere una risposta di un certo tipo. E credo che questo sia importante, bisogna ricordare che ci sono queste tre fasi, c'è il mix infiammatorio, la trasluzione verso i nervi periferici e poi l'integrazione di questa percezione nella corteccia. Questi sono i tre target principali di possibili farmaci analgesici. L'interprete di italiano si scusa ma ogni tanto il segnale del professor Guatteo è carente e quindi ogni tanto perdiamo quello che dice. A volte si può utilizzare un'anestesia per bloccare questa trasmissione del segnale. Questo appunto può essere l'obiettivo di alcuni farmaci ma dobbiamo pensare appunto che questi hanno un effetto sia a livello periferico che a livello di sensibilizzazione centrale. Un'altra cosa interessante quando parliamo di dolore è cercare di capire di che dolore stiamo parlando. Normalmente lo dividiamo in tre categorie principali. Il dolore somatico, come quello della zoppia, una frattura, la decornazione, è un dolore che ha origine nel corpo e quindi ha a che vedere con la pelle, le ossa, i muscoli, i tendini e altri tessuti. Ma possiamo anche parlare di dolore viscerale che è quello che ha origine dagli organi interni. Quindi dal punto di vista molto pratico questo è il tipo di dolore che ci si trova di fronte a un caso di polmonite, emetrite, peritonite, castrazione, cesareo eccetera. Ma c'è anche il dolore neuropatico che è il dolore che ha origine dai nervi, dal midollo spinale e dal cervello a causa di un'elaborazione anomala dell'attività nervosa. Il sistema nervoso centrale non sa esattamente come processare, come elaborare questa informazione e quindi passiamo da iperalgesia a allodinia. Ed è il dolore che si può vedere, si può notare per esempio nel caso della castrazione con anello di gomma, non so se si fa nel vostro paese, ma questo spesso porta a un dolore cronico, un dolore intenso e cronico. E questo avviene appunto nel caso della castrazione con anello di gomma. Si tratta di un dolore neuropatico, quindi dolori diversi con origini diverse e probabilmente che hanno bisogno di procedure di gestione diverse e antidolorifici diversi. Quando si tratta di dolore neuropatico, per esempio, i farmaci antidolorifici che utilizziamo normalmente non sono molto efficaci e quindi bisogna trovare una soluzione diversa. Infine, per tornare alle definizioni, è importante parlare anche della durata del dolore. Si può fare la differenza fra dolore acuto e dolore cronico. Il dolore acuto normalmente segue una lesione e scompare quando la lesione guarisce. Diciamo che è uno di quei dolori utili, per così dire, e normalmente scompare appunto quando la lesione guarisce. Ma questo può portare a dolore cronico, soprattutto quando il dolore è troppo intenso o è molto prolungato. Quindi passiamo al dolore cronico. Normalmente si parla di dolore cronico quando parliamo di un dolore che dura da due a tre mesi. A volte quando si chiede all'allevatore ci dice che sono due o tre mesi che la mucca non si alza e quindi vuol dire che sta soffrendo da tutto questo tempo. E questo dolore può essere diviso in dolore infiammatorio cronico quando la guarigione persiste oltre il tempo previsto. e quindi in questo caso i FANS possono avere una funzione, lo vedremo alla fine della presentazione. Ma quando si tratta di dolore neuropatico cronico può non avere un esordio ben definito e può non rispondere ai trattamenti efficaci contro il dolore infiammatorio acuto o cronico. Spesso viene definito come dolore intrattabile. Quindi il messaggio che ha a che vedere con la definizione del dolore è che secondo me il dolore dovrebbe essere un beneficio per il bovino. Non so se capite questa definizione. Appena si rileva un dolore va trattato il prima possibile per evitare che questo dolore si trasformi in un dolore cronico e soprattutto in un dolore neuropatico cronico. e quindi ci sono i primi trattamenti la prima linea di trattamenti è quella basata su i FANS. Ma adesso passiamo alla seconda parte della presentazione quella un pochino più pratica. Come rileviamo il dolore nel caso dei bovini? Torniamo alle domande, facciamo un'altra domanda nel nostro sondaggio. Ecco, fra i seguenti criteri quali sono quelli che credete che siano i migliori per rilevare il dolore fra il bestiame destinato al consumo umano? quindi criteri fisiologici, comportamentali o zootecnici. Quindi, adesso fermiamo il sondaggio. Il 75% delle persone che hanno risposto dicono comportamentale. Quindi abbiamo ottimi studenti stasera. Sì, è così. Anche se avete risposto qualcuna delle altre risposte beh, non è sbagliato però sicuramente i criteri fisiologici magari non sono del tutto pratici nella prassi quotidiana. Quindi, passiamo alla rilevazione del dolore. Vi presenterò uno studio realizzato qualche anno fa qui in Francia. Abbiamo chiesto a degli allevatori vedete in diverse zone della Francia abbiamo chiesto appunto agli allevatori quali erano i segni clinici che loro utilizzavano per rilevare il dolore nei bovini. E come dicevamo appunto normalmente si parlava di comportamento comportamento generale espressione facciale andatura e postura vocalizzazione e si diceva anche che la febbre è stata segnalata come un segno di dolore. Una cosa interessante e poi vedremo quali sono le conseguenze per quanto riguarda queste rilevazioni. Non è stata notata nessuna differenza fra l'allevatore di bestiame da latte e da carne quindi i risultati sono stati praticamente gli stessi però c'è una certa confusione fra dolore, febbre e patologia sono concetti che vengono confusi ma la rilevazione del dolore dipende comunque dall'osservazione. Poi abbiamo chiesto agli allevatori di dire quali sono le condizioni più dolorose secondo loro quindi le tre principali risposte sono malattie dell'apparato digerente e mastite è chiaro sono patologie molto tipiche quindi claudicazione malattie dell'apparato digerente e mastite sicuramente nel caso di questo tipo di patologie è chiaro che la mucca sta soffrendo però quando vediamo quali sono i farmaci utilizzati spesso si tratta di antidolorifici almeno nella teoria ma poi nella pratica soprattutto in Francia dieci anni fa spesso si utilizzavano gli antibiotici invece appunto dei fans magari antibiotici con corticosteroidi steroidei scusati anziché i fans quindi anche se siamo tutti d'accordo sul fatto che queste sono condizioni che portano a dolore la prima linea di trattamento non era sempre quella degli antidolorifici questi sono i dati sulla situazione chiediamo scusa ancora una volta ma purtroppo si congela l'audio del professor Guatteo ogni tanto quindi questa è una cartella in cui si indica la distribuzione del dolore da 1 a 10 e si chiedeva se venissero utilizzati i fans nel caso appunto del dolore e vedete che c'è una sovrapposizione c'era chi li utilizzava più o meno sistematicamente il che ha senso in alcuni casi interpretessi scusa ma purtroppo stiamo perdendo l'audio doveva essere presa in considerazione l'alta probabilità dell'utilizzo di fans i veterinari più giovani normalmente li utilizzano più frequentemente rispetto a quelli diciamo più anziani quindi guardiamo le statistiche e vediamo che ci sono molte opportunità di trattamento del dolore bisogna solo chiedersi se lo facciamo in maniera regolare o se lo fanno gli allevatori in maniera regolare quindi sicuramente c'è ancora molto spazio per il miglioramento e questa è la stessa equazione nel caso degli interventi chirurgici più dolorosi quindi per esempio un cesareo o decornazione disbudding castrazione rifinitura eccetera ancora una volta molte indicazioni quotidiane per la gestione del dolore esistono nella teoria ma poi nella pratica non vengono applicate non è così frequente molti allevatori continuano a realizzare operazioni come quelle di decornazione o disbudding senza nessun tipo di anestesia o analgesia questo studio è stato realizzato dieci anni fa quindi forse i risultati sono leggermente diversi oggi comunque continuano ad essere molto interessanti come potete vedere a seconda delle condizioni dell'intervento chirurgico si parla per esempio di castrazione taglio cesareo eccetera in arancione vedete i risultati della Francia e in verde i risultati dell'Europa per il cesareo per esempio c'è una grossa differenza fra la situazione francese e il resto dell'Europa forse è dovuto a diversi regolamenti che cambiano a seconda dei paesi o dall'utilizzo per esempio di anestesia locale o meno questo dipende normalmente dai regolamenti dalle norme in vigore nei vari paesi però forse la cosa che più cambia è la percezione da parte degli allevatori spesso nel rilevamento del dolore non si tiene conto solo della scienza ci sono allevatori che utilizzano antibiotici ma non sempre gli stessi e non per la stessa durata ma sicuramente l'utilizzo di fans dovrebbe essere un pochino più sistematico rispetto all'uso degli antibiotici quando parliamo di dolore a volte parliamo di valori di credo religioso quindi la percezione può dipendere da molti aspetti dalla cultura stessa dell'allevatore e questa è una delle cose che dobbiamo tenere in considerazione l'allevatore a volte si confonde poi fra la gravità della malattia per esempio nel caso di febbre per esempio quando parliamo di infiammazione ci si aspettano febbre e dolore però è interessante quando abbiamo chiesto agli allevatori che tipo di prodotti utilizzavano che tipo di farmaci utilizzavano il 28,4% ha dichiarato che utilizzavano spesso gli antibiotici nel caso di un'infiammazione sicuramente questo ridurrà il dolore quindi nel caso di un'infiammazione ai denti ovviamente bisogna prendere gli antibiotici e questo ridurrà anche il dolore se volete informazioni più precise sul vostro paese sarò lieto di condividerle con voi però dobbiamo pensare che nella mentalità dell'allevatore a volte non è chiaro qual è il tipo di trattamento più adatto a trattare appunto il dolore e quindi quando guardiamo le diverse possibilità che abbiamo dal punto di vista pratico possibilità per trattare il dolore qui sulla destra della slide potete vedere che c'è una valutazione soggettiva di agricoltori e veterinari e una delle cose principali è sicuramente il comportamento che non costa molto da valutare non richiede grandi spese non è necessario fare dei test molto sofisticati ci si può basare semplicemente sull'osservazione dell'animale quando si legge la bibliografia di 30-40 anni fa si è sempre pensato che i bovini esprimessero meno il dolore rispetto ad altre specie si diceva che fossero animali stoici sinceramente io sono 20-25 anni che lavoro con le mucche e sinceramente come ho già detto anche nelle prime slide forse esprimono il dolore a modo loro fanno cose diverse rispetto a un cavallo o un cane però quando si vede una mucca soprattutto se le guardiamo la faccia ci rendiamo conto che ci sono tanti i segnali le indicazioni del dolore basta guardare il comportamento la faccia eccetera si dovrebbe rilevare facilmente il dolore quali sono i segni clinici per cercare di capire appunto se la vacca sta soffrendo se ha dolore innanzitutto si deve osservare l'interazione tra gli animali e anche il loro comportamento individuale se ci sono attività anomale nella postura per esempio negli arti la coda la testa o il collo i cambiamenti nell'andatura quindi se c'è zoppia per esempio ci sono molte scale per poter valutare questo bisogna poi vedere la risposta al disturbo quando sta soffrendo c'è una risposta più ridotta e poi si deve chiedere la valutazione della vacca o del vitello da parte del proprietario dell'allevatore perché quando si arriva all'allevamento l'animale è stato confinato in un determinato luogo non si può valutare molto bene il suo comportamento soprattutto se c'è una corda intorno al collo eccetera non si può muovere liberamente quindi dobbiamo chiedere all'allevatore qual è la sua percezione rispetto a questa mucca o del suo comportamento nelle ultime ore o negli ultimi giorni durante l'esame clinico si possono valutare altri segni indicativi come cattive condizioni del corpo della pelle del mantello se ci sono ferite ovviamente se ci sono altri segni clinici come l'aumento della frequenza respiratoria rantoli la respirazione a bocca aperta ansimazione sudorazione tremore un aumento del tono muscolare muscolare le pupille dilatate gli occhi spalancati sono tutti segnali che si possono vedere anche in queste diverse immagini sono sicuro che potrete essere d'accordo con me sul fatto che queste mucche stanno soffrendo sentono molto dolore soprattutto l'espressione facciale della mucca sulla sinistra dell'immagine di sinistra è molto chiara vedete i muscoli tesi la posizione degli occhi la posizione delle orecchie credo che siano chiaramente indicatori del dolore quando si vogliono trattare specifiche patologie ovviamente si devono utilizzare gli strumenti disponibili nella bibliografia ci sono griglie di diversi tipi di quattro livelli di cinque livelli quella del Regno Unito per esempio quella per il punteggio sulla zoppia la valutazione della zoppia ma indipendentemente dalla griglia utilizzata se si usa sempre la stessa la cosa importante è l'interpretazione della stessa nel caso della zoppia per esempio l'intensità della zoppia non è legata all'intensità del dolore non sempre e poi funziona questo tipo di griglia per la zoppia ma non per altre condizioni l'interprete si scusa ma ha perso l'audio in base a uno studio realizzato alcuni anni fa sulla gestione del dolore nel caso di taglio cesareo vedete che c'è questa griglia facile da utilizzare che analizza l'andatura la frequenza cardiaca la posizione della testa quella degli arti posteriori e la linea dell'arco si deve specificare che il 100% è indicato quando il punteggio è superiore o uguale a 2 un'altra griglia che non analizzerò non analizzerò nel dettaglio comunque una griglia che si utilizza soprattutto in Brasile nel caso della castrazione è interessante perché quando si vedono i segni clinici si parla di locomozione di comportamento interattivo attività appetito e comportamenti può essere molto complessa può essere molto definita ma comunque sono tutti elementi molto di base e anche se è stata sviluppata questa griglia per la castrazione potrebbe essere applicata anche a altri tipi di dolore per me oggi la migliore scala del dolore quando non è per esempio una peritonite o una zoppia eccetera si può utilizzare questa scala sviluppata da colleghi danesi Glirup e Al quindi hanno a che vedere con l'attenzione all'ambiente circostante che ha a che vedere appunto con il comportamento poi la posizione della testa dell'animale la posizione delle orecchie l'espressione facciale la risposta all'approccio quindi un comportamento di cui parlavamo prima la posizione del dorso e la zoppia se guardate l'immagine sulla destra della slide vedrete che appunto cambia l'aspetto della testa la posizione della testa le orecchie a volte sono in basso c'è una tensione nei muscoli della della faccia questi sono segni chiari di dolore anche questo a che vedere con la stessa griglia potrete accedere alla presentazione dopo il webinar quindi comunque vedrete che il punteggio va da 0 a 2 e analizza varie condizioni e aiuta a capire quando è necessario utilizzare antidolorifici quando il punteggio è uguale o superiore a 4 quindi in alcuni casi per esempio si deve utilizzare appunto l'antidolorifico se pensiamo non so all'ultima mucca che abbiamo trattato che sentiva dolore sono sicuro che ritroverete molti dei segnali che sono indicati su questa griglia e ricorderete appunto quelli che avete visto su questo animale e poi passiamo prima di passare scusate all'ultima parte della presentazione questo è uno studio realizzato per costruire griglie specifiche e facili da utilizzare per alcune patologie dicevamo prima ce ne sono alcune per la castrazione il cesare o la zoppia però questa scala è più aperta l'idea era appunto utilizzare quella di utilizzare lo studio DELFI il metodo DELFI che in pratica chiedendo a diversi esperti che vedete qui su questa tabella abbiamo chiesto loro di cercare di costruire appunto una griglia per patologie specifiche e quando vediamo una sorta di saturazione nelle risposte allora grazie a queste risposte saturate abbiamo creato la griglia finale questi sono alcuni risultati della griglia finale dopo il terzo turno nel caso per esempio del BRD o della diarrea del vitello o del vitello dopo la nascita quindi qui vedete che ci sono 4-5 segni clinici che possono essere utilizzati appunto per rilevare il dolore nel caso del BRD c'è una combinazione della reazione alla percussione del torace pleurodina quindi collo teso diminuzione dell'attività grugniti l'animale sta in piedi con le gambe anteriori ben distanziate nel caso della diarrea addome rigido brevi momenti in posizione sdraiata appoggiata sulle zampe posteriori tenesmo bruxismo colpi con la coda nel caso del vitello dopo la nascita reclinazione laterale sdraiato con la testa in giù si sforza di meno per camminare meno tempo dedicato ai comportamenti sociali all'alimentazione al gioco eccetera e su queste cose tutti gli esperti erano d'accordo abbiamo fatto poi lo stesso lavoro nel caso della reticoloperitonite delle malattie agli occhi e della metrite spesso si incontrano si ritrovano gli stessi segni clinici quindi ancora una volta non è così difficile rilevare questo tipo di dolore se si guarda la mucca normalmente la mucca stessa vi dirà la vacca stessa vi dirà che sta soffrendo infine abbiamo chiesto se fosse necessario l'accumulo di una serie di segni prima di implementare gli antidolorifici o se bastava uno di questi segni e la cosa interessante è che quando guardiamo le risposte di diversi esperti abbiamo chiesto loro qual era la condizione necessaria per utilizzare gli antidolorifici e vedete che la maggior parte considera che si devono utilizzare gli antidolorifici non appena è presente uno dei segnali altri hanno detto due segni o tre segni quindi sicuramente in caso di dubbio secondo me si deve pensare al beneficio per l'animale quindi nel caso di dubbio pensare sempre al benessere dell'animale e domani sicuramente sarà sempre più facile più semplice rilevare comportamenti anormali anomali utilizzando i diversi strumenti che abbiamo a nostra disposizione che avremo sempre di più a nostra disposizione come l'allevamento di precisione o l'intelligenza artificiale videocamere che consentono di rilevare comportamenti anomali un aumento di determinati comportamenti che appunto saranno sempre più facili da rilevare soprattutto nel futuro per concludere torniamo all'animale guardiamo la faccia della vacca i bovini non sono così stoici l'allevatore è la prima sentinella e pensiamo che il dubbio dovrebbe sempre giovare all'animale quindi bisogna cercare di pensare sempre al loro benessere quindi questo è il messaggio da portare a casa se non conoscete questa scala delle espressioni facciali vi spingo veramente ad utilizzarla perché vi aiuterà tantissimo nella rilevazione del dolore passiamo all'ultima fase della presentazione quella della gestione del dolore con l'approccio delle tre S passiamo ancora una volta al sondaggio si qui c'è l'ultima domanda nella tua attività che tipo di intervento richiede un migliore approccio tre S la zoppia la castrazione la mastiti o il taglio cesareo quindi suppress substitute quindi per quale di queste condizioni si può utilizzare appunto l'approccio a tre S quindi sopprimere sostituire e soppire soppire il dolore lenire il dolore quindi 41 persone hanno detto zoppia, 29 hanno detto mastite e poi abbiamo 14 e 15 per gli altri due. Bene, quindi ho visto che tutte le persone stanno ascoltando attentamente la presentazione. Allora, di cosa parliamo quando parliamo dell'approccio delle 3S? Dieci anni fa ho partecipato a uno studio scientifico per fare un grande compendio di tutto il dolore che può essere rilevato nei bovini e non solo, negli animali di allevamento e quindi come riuscire a migliorare la situazione. Avevamo pensato all'approccio 3R, non so se lo conoscevete, Replace, Reduce e Refine, nel caso degli animali da laboratorio, per propositi scientifici. Quindi invece di utilizzare l'approccio 3R, non funziona nel caso degli animali di allevamento, ci siamo chiesti come avere un approccio simile che poi ha fatto nascere questo approccio 3S. Quindi prima di fare una cosa sulla mucca, sulla vacca, bisogna pensare qual è la procedura necessaria. Per esempio, a seconda di qual è la patologia, ci sono delle tecniche che possono provocare del dolore che non sono assolutamente utili e quindi possiamo saltarle. In alcuni paesi ci sono delle procedure che sono state proibite, si cercava per esempio di migliorare l'igiene con il taglio della coda per esempio, che però non è stato verificato questo. Quindi la domanda è, ho bisogno di farlo? Bene, se non ho bisogno di farlo, sopprimo la fonte del dolore. Se la risposta è sì, se pensiamo a un'operazione di decornazione, castrazione o disbudding, dobbiamo pensare che non tutte le procedure sono equivalenti per quanto riguarda l'intensità del dolore. E quindi l'idea è utilizzare la tecnica che porta a meno dolore. E poi infine, se si deve realizzare questo intervento ed è un intervento doloroso, anche quando si sceglie il meno doloroso, si passa all'ultima risposta che è quella di soppire il dolore, di lenire il dolore. Quindi l'idea è utilizzare un analgesico, il prima possibile, per evitare allodinia e dolore cronico, utilizzare un approccio multimodale, come dicevamo prima, e poi adattarci all'intensità del dolore. Quindi vi farò un esempio di questo approccio a 3S, per esempio con la decornazione o il disbudding, soprattutto la decornazione nel caso delle vacche. Sopprimere alcuni allevatori, se hanno la possibilità di fare una selezione genetica, si possono avere delle mucche senza corna, quindi meglio scegliere la selezione genetica. Però ci sono alcuni limiti, per esempio l'accettabilità da parte degli allevatori o il numero limitato di tori. Però si può anche sostituire, se dobbiamo realizzare una decornazione, dobbiamo cercare di evitare un troppo dolore, troppo danno ai tessuti, quindi si deve realizzare prima di un mese. Quindi un disbudding che provochi meno danni ai tessuti e meno infiammazioni. E infine, quando si realizza la decornazione, si deve cercare di lenire il dolore combinando l'anestesia ma anche l'analgesia, quindi un approccio multimodale con dei fans utilizzati a livello precoce e questo è solo un esempio per farvi capire come si può trattare in questo caso. In questo caso evidentemente i fans sono da applicare precocemente. Gli analgesici sono importanti perché hanno un effetto sulla sensibilizzazione periferica, ma c'è anche un impatto dei fans, soprattutto a livello cerebrale, quando c'è un impatto a livello di integrazione nella corteccia e quindi i fans hanno un'azione periferica e centrale, entrambe. Per quanto riguarda l'adattamento all'intensità del dolore e la sua rivalutazione, qui vedete una scala in cui abbiamo il livello 1. Per non avere una scala troppo sofisticata, questa è una cosa molto semplice. Il livello 1 è quello in cui gli allevatori possono procedere da soli. Il livello 2, nel caso per esempio di una castrazione, decornazione o un taglio cesareo, ci deve essere sempre una collaborazione fra allevatore e veterinario. E il livello 3, nel caso di una chirurgia abomasale, amputazione, eccetera, ci vuole sicuramente il lavoro del veterinario. Quando appunto gli interventi sono molto dolorosi, appunto deve essere il veterinario a agire. E prima di darvi alcuni esempi di ciò che vi potete aspettare per quanto riguarda i benefici nell'uso degli antidolorifici, qualche informazione sull'impatto di questo dolore, della malattia, da una parte ci sono le perdite e i costi. I costi, quello che si paga, le perdite, ciò che dovrebbe essere nel vostro portafogli è invece scomparso. La cosa interessante è che dobbiamo essere onesti, dobbiamo cercare di non far aumentare le perdite, al contrario, dobbiamo ridurre le perdite anche se i costi a volte possono aumentare. Bisogna spiegare agli allevamenti che dal punto di vista economico c'è comunque un beneficio. Quando si parla di mastite, molti di voi penseranno che si può gestire la mastite in maniera diversa. È stato dimostrato che spesso si utilizzano gli antibiotici nel caso di mastite, ma i FANS, è stato dimostrato, che favoriscono il ripristino dell'integrità della barriera epiteliale mammaria in vitro. Importante soprattutto per l'allattamento successivo. Nei casi peggiori di mastite ci sono molti studi che favoriscono l'utilizzo dei FANS per poter migliorare l'appetito, per poter fare in modo che non solo si possa salvare la vacca, ma anche l'allattamento successivo, perché spesso la longevità della vacca è importante, ma è importante anche la longevità dell'allattamento. Quindi ricordate che i FANS sono fondamentali nel caso della mastite perché aumentano la possibilità di una sopravvivenza dell'allattamento. C'è uno studio recente che ha dimostrato che aggiungendo FANS al trattamento della mastite classico ci sono dei vantaggi produttivi, non solo sull'allattamento, ma anche a livello produttivo. Quindi c'è una maggiore percentuale di gravidanze entro i 120 DIM e un PII inferiore rispetto alle vacche di controllo. Quindi credo veramente che sarebbe interessante utilizzare in maniera molto più sistematica i FANS nel caso delle vacche da latte. Quando parliamo di zoppia, pensiamo all'impatto della zoppia. Quando si cerca di valutare l'impatto a livello di giorni di produzione latte, eccetera, qui potete vedere che il DMI si riduce quindi se si tratta in maniera precoce la zoppia ci si può aspettare una maggiore produzione di latte da questo vestiame. E poi ci sono ancora due studi che vorrei mostrarvi. Questo realizzato da un team di Nottingham alcuni anni fa che combina gli effetti di diversi trattamenti nel caso di vacche zoppe con lesioni come il VLD se il trattamento è implementato precocemente o se invece il trattamento è tardivo ci sono delle grandi differenze e come potete vedere il trattamento precoce è fondamentale perché se il trattamento è tardivo i risultati non saranno gli stessi quindi se si tratta precocemente vediamo che il risultato è sempre superiore rispetto al 70% e ci sono evidenze scientifiche sul fatto che l'infiammazione può portare a zoppia nel caso della vacche e soprattutto a problemi e lesioni dello zoccolo. Lo stesso team di Nottingham ha realizzato questo interessante studio che parla della prevenzione del dolore e dell'infiammazione dicendo appunto che la prevenzione del dolore e dell'infiammazione è fondamentale e si utilizzavano in questo studio si utilizzavano i FANS quindi in varie situazioni ma comunque nella parte finale della slide vedrete che c'è un rischio ridotto di incidenza della zoppia quindi questo consente di prevenire la zoppia lo vedete nel gruppo 2 e 3 e se torniamo in alto il gruppo 2 è quello che ha ricevuto FANS non solo quando si è notata la zoppia ma anche successivamente quindi questo significa che trattare il dolore o trattare l'infiammazione è un elemento chiave non solo per curare la zoppia ma anche probabilmente anche più tardi perché chiediamo scusa purtroppo perdiamo l'audio del professore e ogni tanto perdiamo qualche parola questi sicuramente saranno elementi da studiare successivamente nel futuro perché sono assolutamente interessantissimi e infine ci sono alcune indicazioni sulla gestione del dolore per promuovere la salute dei vitelli perché si parla molto delle vacche da latte eccetera ma quando studiamo i vitelli questo è uno studio molto interessante intorno alla castrazione se si tratta il dolore nel momento della castrazione ci sarà un miglioramento dell'immunità e quindi saranno meno malati questi animali durante le fasi successive come potete vedere l'impatto è chiaro a livello statistico con una minore incidenza di BRT perché c'era una maggiore immunità in questi animali si può anche studiare l'utilizzo di FANS nel caso della diarrea del vitello oltre alla terapia classica spesso non si è a favore dell'utilizzo dei FANS in questo tipo di casi però c'è stato questo studio in Canada che ha analizzato circa 60 vitelli con diarrea neonatale ed è stato realizzato uno studio randomizzato con controllo o meloxicam e potete vedere a qui i risultati fra i due gruppi appunto un effetto interessante dei FANS rispetto alla terapia classica sola e quindi questo porta a una prima assunzione di solidi 12 giorni per il gruppo FANS e 17 per il gruppo placebo questo è interessante perché ha a che vedere con il taglio cesareo quindi una migliore assunzione di colostro nel trattamento del dolore delle vacche può esserci un impatto perché non so quale sia la vostra esperienza in questo senso ma a volte dopo un taglio cesareo spesso la vacca non vuole allattare perché sente dolore e quindi abbiamo fatto questo studio su circa 50 vacche alcune hanno ricevuto placebo e altre hanno ricevuto il farmaco oltre all'anestesia abbiamo visto la qualità valutato la qualità del colostro per essere sicuri appunto che la qualità fosse sempre la stessa abbiamo fatto un confronto calcolando parità età durata del parto cesareo qualità del colostro e simili e questo è stato il risultato vedete che il ritardo nel primo allattamento spesso è dovuto soprattutto alla vitalità del vitello stesso però è interessante vedere come c'è un livello aumentato delle immunoglobine nel sangue del vitello nato da una vacca che aveva ricevuto i fans perché probabilmente il colostro aveva la stessa qualità il ritardo nell'allattamento era lo stesso e quindi probabilmente la durata del trattamento aveva un effetto appunto sull'allattamento del vitello e qui vediamo con un'analisi multivariata le due variabili mantenute dopo la fase univariata quindi abbiamo un effetto importante nell'utilizzo dei fans ci possono essere quindi effetti indiretti anche sul vitello nell'uso dei fans per concludere direi che i fans possono essere fondamentali nel trattamento spesso il dolore esiste anche nel caso dei vitelli esiste e deve essere trattato come dicevamo prima bisogna tornare alle basi bisogna tornare all'osservazione soprattutto della faccia del viso dell'animale quindi la tensione dei muscoli la tensione del collo la testa alta o bassa queste sono le cose che dobbiamo analizzare quindi osserviamo l'animale e si utilizzano i fans come trattamento di scelta si arriverà a un miglioramento clinico una riduzione delle prestazioni compromesse un miglioramento del benessere generale questo consentirà di sensibilizzare sempre di più gli allevatori quindi crediamo che sia importante promuovere un approccio 3S vi ringrazio per la vostra attenzione e sono lieto adesso di rispondere alle vostre domande grazie Raffaele molto interessante la presentazione abbiamo pochissimo tempo per le domande ma vi propongo di sceglierne alcune non tutte purtroppo non abbiamo il tempo di rispondere tutte ce n'era una circa l'azione centrale dei fans se potessi precisare un pochino di più cosa pensi appunto di questo aspetto sì allora c'è un effetto sulla sensibilizzazione periferica sul mix infiammatorio ma c'è anche un impatto sul sistema centrale perché aumenta il livello a partire dal quale ci sarà una risposta a livello del dolore dell'animale quindi se si somministrano i fans l'animale risponde meglio alla sensazione del dolore diciamo e che io sappia in questo caso tutti i fans hanno questo tipo di effetto qui abbiamo proprio una domanda che riguarda che fans e in che condizioni eccetera credo che non sia così facile rispondere no beh non abbiamo un buon benchmark dei diversi fans siamo fortunati di avere molti fans molto buoni sul campo io non posso consigliarne uno rispetto agli altri dipende veramente dalla vostra scelta personale e dalla vostra esperienza personale ma ne abbiamo di ottimi devo dire c'è una domanda interessante studi sull'utilizzo di cannabinoidi per trattare il dolore nei ruminanti no che io sappia so che alcuni allevatori soprattutto negli allevamenti bio organici utilizzano alcune piante però che io sappia non ci sono degli studi scientifici a riguardo potrebbe essere interessante benissimo beh direi che non possiamo rispondere a tutte le domande chiediamo scusa comunque ringraziamo ancora una volta il professor Guatteo per la presentazione interessantissima vi invitiamo a seguirci perché ci saranno nei prossimi mesi altri webinar il 4 giugno ci sarà un interessante incontro in cui si parlerà di zoppia quindi vi invito a seguirci e a partecipare al prossimo webinar ancora una volta grazie a tutti per la partecipazione grazie perché siamo stati quasi 400 persone oggi collegate è stato veramente un piacere ascoltare il professor Guatteo grazie a tutti buona serata e a presto ci vediamo a giugno grazie grazie a tutti